Papa Francesco ha ricevuto il premio Nobel per la pace il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Bergoglio ha voluto invitare anche il suo predecessore, Alvaro Uribe, che si è opposto all'accordo con le FARC voluto da Santos. Lo storico accordo è stato al centro del colloquio di 25 minuti nello studio privato del Papa, durante il quale c'è stato anche uno scambio di regali. Santos ha donato una penna ricavata dal bossolo di una pallottola con cui sono stati firmati gli accordi di pace, alla vigilia del compleanno del Papa. Quest'ultimo ha sottolineato che per una pace duratura sono necessari l'unità delle forze politiche, l'impegno delle FARC e anche il contributo della Chiesa locale a favore della riconciliazione nazionale.